Sì, abbiamo giocato un'ottima partita, l'unico armatico che ho e che potranno anche vincere la partita. Il piano partita preparato in settimana è stato rispettato in pieno dai suoi ragazzi? Sì, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo provato, sappiamo della forza della terrestina, i ragazzi hanno fatto una grande partita, ripeto, vediamo mai perché guardando le occasioni, guardando tutta la partita, noi potevamo sfruttare di più certe situazioni e il gol che abbiamo preso è stato un'infortuna e quindi abbiamo tante situazioni e la terrestina non si è quasi mai così piccolosa. Quindi avevamo preparato la partita lasciando il processo parola e quindi da quel punto di salire lo sapevamo, però sapevamo che potevamo mettere in difficoltà come è stato sulle ripartenze in questo senso qui. La partita è andata come una volta a parte, peccato che non ha fatto solo un punto perché con queste prestazioni bisogna fare un altro punto. Portando via comunque un risultato positivo da Trieste, vi riprosseguo nella vostra stagione può essere una buona iniezione di fiducia. Sì, abbiamo bisogno di fare punti, un punto a Trieste, già l'avevo detto prima, eravamo contentissimi, però quando uno guarda la partita ha un po' di ramare, però questa è una squadra che in questo momento ha pochi punti per il potenzialità, secondo me potrebbe fare molto di più e i ragazzi hanno bisogno di una vittoria con quel caso. Oggi potrebbe essere come domenica scorsa con te, con San Benedetto, con la Lecciana, una vittoria di partite dove potevamo raccogliere molto di più.